La parola è Michele Romito, è il nome del ragazzino di Barivecchia che con un gruppo di suoi coetanei partecipò alla battaglia di Bari del 9 settembre 1943 e con un colpo di bomba a mano da lui oculatamente assestato riuscì a distruggere un mezzo cingolato dell'autocolonna corazzata tedesca bloccando la stessa autocolonna e impedendo che entrasse sotto l'arco di Barivecchia penetrando alle spalle dei difensori del porto. Queste le parole che lo ricordano in una pietra d'inciampo collocata sul posto. Da queste mura il 9 settembre 1943 Michele Romito oppose resistenza all'esercito tedesco unendo il coraggio dei suoi 15 anni a quello del popolo di Barivecchia e dei soldati del generale Bellomo contribuendo così a salvare la città e il suo porto dalla furia distruttiva dei nazisti.